... Benvenuti a questa video analisi dedicata alla sterlina con vari incroci partiti dal dollaro ma anche le altre valute che seguo io almeno e state seguendo voi attraverso me questo servizio di video analisi. Sterlina nei confronti del dollaro, questo è un grafico, ci tengo sempre a precisare, Aikinashi che è molto simile alle candele giapponesi, sterlina che dopo il crollo successivo alla violazione di questo supporto per il momento ha trovato un rifugio su questo altro livello sempre di supporto 1.41.80, poco fa è stato anche pubblicato il PIL inglese in linea con quelle che erano le attese degli operatori, quindi per il momento non c'è un'accelerazione però si sta insomma si viaggia a distanza di sicurezza. La sterlina poi nei confronti dell'australiano attenzione perché sta e vicino potrebbe esserci una violazione del supporto, quindi qui attenzione bisogna seguire la chiusura di questa notte. Prosegue invece la correzione dalla resistenza da 2.10 nei confronti del canadese, contro l'euro c'è stato in corso una correzione dalla resistenza 0.77 ma adesso proprio vedete sembra voler recuperare terreno, nei confronti del neozelandese siamo a metà strada tra questa resistenza ex supporto e supporto 2.15 in fase di rimbalzo sia contro il franco svizzero che contro lo yen. Grazie a tutti.